Ed ora con Enrico Doringer andiamo nel comune di San Cipriano Cilentino, comune piccolo ma molto innovativo. Vedete come hanno risolto il problema dello smaltimento della frazione organica dei rifiuti. Nasce a San Cipriano Picentino in provincia di Salerno il primo impianto sperimentale pubblico di l'ombricoltura della nostra regione per lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Siamo il primo comune in Campania che ha avviato questo tipo di soluzione per la problematica dell'umido. L'obiettivo è quello di riportare al terreno ciò che il terreno produce. Questi impianti realizzati direttamente in loco consentono un trattamento del rifiuto direttamente sul posto, evitando anche i mezzi di circolare troppo sul territorio comunale. Quindi anche in termini di CO2, di consumo di petrolio, ovviamente questi impianti rendono possibile un abbattimento di questi costi. Come funziona un impianto di lombricoltura? Noi diamo all'ombrico da mangiare tutta l'immondizia perché è il suo lavoro in natura. Lui fa quello. In questo caso specifico gli diamo tutto l'umido di cucina da raccolta differenziata. Il problema della raccolta differenziata è che c'è dentro tanta plastica, praticamente materiale inorganico. Lui mangia soltanto prodotti organici che possono essere tutto quello che mangiamo noi, in più anche carta, cartone, segature, tutto il fogliame. Un impianto al servizio dei circa 2.500 abitanti delle frazioni di Filetta, dove è stato realizzato è Campigliano, a cui grazie alla filosofia del chilometro zero nel trasporto dell'umido seguiranno altri due impianti sul territorio di San Cipriano Picentino, per coprire il fabbisogno nello smaltimento dei rifiuti organici di tutti i 6.800 abitanti del comune. L'Europa spinge sempre più a creare degli impianti di quartiere. Questo appunto è un impianto diciamo di quartiere perché ha la possibilità di ospitare il rifiuto organico proveniente dalle abitazioni civili e dai locali che ne producono direttamente sul territorio. Che risparmio avrà il comune? Nel primo anno risparmieremo intorno al 65-70% del costo rispetto agli anni precedenti, dall'anno successivo molto di più perché le lettiere ovviamente si comprano solamente la prima volta. Dopodiché l'ombrico mangia e si riproduce da sé e in base alla quantità di umido si riproduce sempre di più. Poi non ci sono cattivi odori? L'importante è anche quello, siccome non c'è fermentazione anaerobica ma è tutto in fermentazione aerobica, immediatamente si trasforma e l'ombrico deodora anche.